Occhio ai giornali, benvenuti cari telespettatori di Fano TV, questa è la rassegna stampa del mattino, sono le 7 e siamo in diretta, allora ben trovati e cominciamo subito dal santo del giorno, poi il tempo e i giornali, il santo di oggi, i santi, perché uno è Santa Luduina, ma ci sono anche i santi Tiburzio, Valeriano e Massimo Martiri, il sole è sorto alle 6.28, tramonterà alle 19.53. Andiamo come sempre su trebimeteo.com, questa è l'immagine delle Marche questa mattina, con ancora la notte, questa mattina invece con un po' di neve al nord della regione, 500 metri in limite delle nevicate, poi ancora piogge alternate a schiarite, il pomeriggio migliora, soprattutto da nord, da nord poi verso sud, dove ancora avremo qualche precipitazione, questa invece la nottata. Andiamo a vedere giovedì, giovedì domani 15 di aprile, la mattinata si apre così, con sole alternate a nuvole, qualche pioggia sull'ascolano nel corso del pomeriggio, poi migliora la sera. Andiamo a vedere i titoli dei giornali, delle prime pagine, Carlino di Pesero, la fotonotizia, profil glass, fiamme e paura, incendio nella grande azienda di Bellocchi, danni ma senza feriti, nasce invece la cittadella del pallone, sorgerà vila fastigi, prevede tre campi da calcio, sarà la Milanello di Pesero, la firma della Vis sul progetto. Agenzie e viaggio, hotel, palestre in provincia rischia di chiudere un terzo delle imprese, sono le previsioni nerissime dei commercialisti e sotto invece, anzi qui di spalla, troppi falsi positivi a chi risulta contagiato subito il molecolare e lo screening nelle scuole, mentre affano mascherine senza certificati, la finanza ne sequestra 300. Addio a Scatigna, medico VL e figura storica dello sport, aveva 85 anni e poi una donna che denuncia, mi ha rapinato al parco, bloccato un ivoriano. Sotto la carica di Carpani, salvarsi ad ogni costo, parliamo di Fano, dell'Alma Juventus Fano e poi il risultato è omologato per la VL, alla VL va il primo round, caso Robinson, respinto il ricorso di Bologna. Andiamo a vedere adesso il Corriere Adriatico, edizione di Pesero, screening, un taglio ai tempi, l'operazione scuole sicure, il comune dice subito i tamponi molecolari agli alunni che sono stati trovati positivi. Ieri su 870 test eseguiti negli istituti superiori, sono stati 7 gli studenti risultati contagiati. Poi c'è il caso, il caso dei 600 vaccini dati all'Abruzzo, dalle Marche all'Abruzzo, l'errore di calcolo dell'area vasta 2, poi albergatori patto del San Bartolo per riportare i turisti, a Pesero ancora coca e marijuana per i professionisti patteggiati 3 anni, il sit-in della destra nel luogo del 25 aprile fa arrabbiare l'associazione dei partigiani. E ancora sotto la Profilglas, alla Profilglas torna la paura per un incendio, fiamme domate in un'ora, e poi basket, VL, c'è l'ok per la vittoria a Bologna e oggi la sfida è a Brindisi. Frenano i contagi e i ricoveri, dopo Pasqua curve in calo, l'incidenza dei nuovi casi è scesa nell'ultima settimana da 190 a 157 ogni 100.000 marchigiani, i pazienti Covid sono ora 840, meno 22 in un giorno, pressing allentato anche sulle terapie intensive, intanto ieri altri 6 decessi legati al coronavirus, il totale nelle Marche sale a 2.798. L'altra pagina della nostra rassegna stampa, quotidiano nazionale, Johnson & Johnson come AstraZeneca, 6 casi di trombosi, bloccate le fiale appena arrivate in Italia, stop dunque negli Stati Uniti, c'è anche una vittima. Intanto il Ministro Speranza riunisce l'AIFA, dice attendiamo le verifiche ma a noi questo vaccino serve. La pausa dovrebbe essere nell'ordine di alcuni giorni, i problemi dai vaccini Johnson & Johnson sono un evento estremamente raro, ce ne sono stati 6 su 6.085.000 dosi somministrate, il che vuol dire meno di 1 su 1 milione. Sono 184.000 le dosi rimaste ferme a pratica di mare, in Italia il Ministro dice la scelta è una scelta precauzionale. Intanto sul Corriere il caso dei 600 vaccini ceduti all'Abruzzo, all'insaputa dei vertici, le Marche dunque prestano i vaccini all'Abruzzo, nel pomeriggio e di domenica 100 flaconi di Pfizer, 600 dosi in totale, sono transitate da Ancona all'Aquila, dove la carenza di sieri rischia di far registrare una battuta d'arresto nella somministrazione. Stando ad una prima ricostruzione nel fine settimana appena trascorso l'area Vasta 2, avrebbe chiesto una quota di vaccini superiore al necessario, dunque ritrovandosi con dosi in eccesso che rischiavano di essere buttate. E dunque forse per un errore materiale, una cattiva comunicazione o una discrepanza tra i dati sulle prenotazioni e le reali somministrazioni da fare, insomma alla fine per non buttar via tutto sono stati dati questi vaccini all'Abruzzo, anche perché non c'erano elenchi a cui attingere, gli elenchi magari da contattare e di conseguenza per non buttarli è stato dato almeno questo secondo una prima ricostruzione. C'è un'intervista invece a pagina 3 del Corriere Adriatico di oggi, andiamo a vederla, Torrette riprende i suoi spazi, i reparti saranno normalizzati, parla Lina Zucca Tosta, direttore del Dipartimento di Medicina Interna dell'Unità Operativa di Pneumologia Torrette di Ancona e che conferma ovviamente insomma che la situazione sta anche se lentamente migliorando, lei dice torneremo all'essetto ordinario a fine maggio, sul pasticcio o meglio comunque su quello che sta succedendo con questi vaccini, AstraZeneca e adesso anche Johnson & Johnson, la dottoressa dice il messaggio che mi sento di mandare è di nuovo un appello alla fiducia, nessuno sta andando a fare un vaccino alla cieca, nei centri dedicati alle somministrazioni ci si trova di fronte a medici molto preparati. E adesso vi presento due storie, due storie marchigiane sempre legate al Covid. La prima arriva da Ancona anche se poi si è sviluppata a Parigi e adesso vi faccio vedere la fotografia. La fotografia è della protagonista di questa storia, è una donna di 84 anni, Franca Giacalone, ex insegnante e qui la vedete insieme allo staff dell'ospedale che l'ha assistita per tre mesi. È stata 45 giorni in terapia intensiva, coma profondo, intubazione, due tracheotomie, due arresti cardiaci, un drenaggio toracico, insomma e anche altre cose ancora. Poi una lunga e faticosa ripresa, il tutto è avvenuto a Parigi in un ospedale americano. Il titolo è Viaggio all'inferno del virus, miracolata 84 anni, ma l'ospedale le presenta il conto 600 mila euro. Era andata lei a trovare il figlio Roberto, che lavora appunto a Parigi e Roberto dice l'ho vista morire due volte. Dopo tre mesi di degenza in una struttura americana, l'amara sorpresa della spesa, per fortuna poi ci ha aiutato l'ambasciata italiana. Qui troverete tutta la storia, potrete leggere tutta la storia. Poi il racconto continua dicendo che quando gli hanno chiesto la caparra, mi pare 100 mila euro, lui dice ho bleffato, i soldi non li avevo ma dovevo salvare mia madre a tutti i costi. Poi alla fine insomma è andata bene, insomma non ha dovuto pagare nulla, questo tutto grazie ovviamente anche all'ambasciata eccetera eccetera. Poi si è fatto il vaccino, la signora si è fatto il vaccino, ha avuto 41 di febbre, però anche questa volta ha battuto anche l'influenza. Insomma davvero una tempra molto molto forte. L'altra storia invece marchigiana, sempre legata al Covid, la andiamo a leggere da Porto Recanati. Questo signore ha 58 anni, si chiama Giovanni Valerio ha preso una multa il 27 gennaio dalla Polizia Amministrativa di Macerata per una multa di 400 euro per violazione delle norme anti-Covid. Quella mattina questo 58enne era entrato nella pizzeria Marcord di Corso Matteotti a Porto Recanati e aveva ordinato un caffè per scaldarsi dal freddo. Subito dopo erano entrati questi due agenti borghesi che avevano multato l'uomo perché a loro detta stava violando le restrizioni datate dal Covid. È in carrozzina, lo vedete, è alla distrofia muscolare. Però insomma alla fine la bella notizia, il lieto fine è arrivato ieri verso le due del pomeriggio quando il suo avvocato Chiarugi ha ricevuto l'ordinanza della prefettura, firmata dal vice prefetto Giulia Minicucci e che ha disposto l'archiviazione del verbale. Il pizzaiolo ha detto ha prevalso il buon senso, faremo un brindisi fuori dal locale, le istituzioni hanno capito che si era trattato di un eccesso di zelo. Intanto prosegue la rabbia, la protesta dei commercianti, ristoratori, imprenditori. Ieri hanno bloccato l'autosole all'altezza di Orte in direzione Firenze per protestare contro il governo. La rabbia spezza in due dunque l'autosole, le regioni dicono allentare il coprifuoco, nuovo corteo di ristoratori esasperati sulla 1 nel Lazio, al circo massimo tensione con la polizia. I governatori vorrebbero spostare il divieto di circolazione a mezzanotte, locali aperti dunque chiedono anche la sera. A Senigallia in strada anche i ristoranti stellati, siamo arrabbiati e disperati ma pacifici tra gli imprenditori che hanno manifestato anche la sorella e la moglie degli chef Uliassi e Cedroni. Vogliamo certezze, qui c'è chi rischia e tra le cose che si sono sentite ieri ci siamo tutti, ristoratori, struttori di fitness, titolari di gelaterie, bar, pub e piccoli artigiani. La voce di Uliassi e di Cedroni, ci sono imprese in difficoltà che rischiano di affondare. Vedete qui nessun problema, il sindaco di Senigallia in questa immagine che ha ascoltato, incontrato questi commercianti. Da parte mia dice il sindaco c'è tutta la disponibilità, Massimo Livetti sono disponibile al tavolo a portare le vostre istanze a livello regionale, io e la Giunta siamo al vostro fianco. Un terzo delle imprese, qui siamo sulla pagina di Pesaro, del Carlino, un terzo delle imprese sarà, forse non riaprirà e la vera strage sarà tra le più piccole. La fotografia di Marco Lucchetti, commercialista, consigliere dell'ordine, dalle agenzie di viaggio ai bar, ecco i cali di fatturato. Appena terminata la sospensione dei licenziamenti, parte l'ondata forte. I venditori ambulanti chiedono al Comune almeno di prolungare il blocco della Tosap per il 2021, nel prossimo giugno dovremo pagarla, ma non abbiamo entrate sufficienti. Test sui falsi positivi, ora il Comune di Pesaro cambia, le medie, diversi studenti sottoposti all'antigenico sono poi risultati negativi, ma adesso al presunto contagiato si fa subito il molecolare. Mentre il plasma iperimmune sarà continuato, in qualche modo verrà usato lo stesso dall'azienda Marche Nord nonostante l'AIFA. Dunque Marche Nord continuerà a somministrare il plasma nella fase precoce del Covid, nonostante il primo studio ufficiale svolto da Istituto Superiore di Sanità e Agenzia del Farmaco abbia evidenziato come non ci siano effetti apprezzabili in termini di riduzione del rischio di peggioramento respiratorio o morte nei primi 30 giorni di malattia. Tuttavia, nonostante questo, Berselli, che è il direttore sanitario dell'ospedale, dice noi continueremo, continueremo, cambieremo soltanto i criteri di reclutamento dei malati, ma insomma per il resto. L'esperienza maturata in questo anno a Marche Nord, dove abbiamo raccolto 259 sacche trattato direttamente o indirettamente altrettanti malati, ha rilevato che c'è invece un effetto positivo quando la somministrazione ovviamente del plasma può essere fatta nella fase precoce della malattia. Ora, su questa faccenda dei test rapidi, quelli che il Comune di Pesaro ha deciso di fare a tutti gli studenti, adesso emerge una cosa che già si sapeva, questi test non sono affidabili al 100%, quindi spesso cosa succede? Che si fa il test, quello rapido, dà positivo, poi quando vai a fare il molecolare per avere la conferma scappa fuori che quel test era sbagliato, quindi è un falso positivo e questo sta succedendo. E quindi su, andiamo a vedere il giornale, le scuole richiamano adesso gli alunni in quarantena, almeno 22 di questi studenti su 26 non erano infetti. Beh, la percentuale letta così è altissima, verrebbe da dire a che serve allora un test del genere se poi i dati sono questi, può scapparne uno di falso positivo, due, ma 22 su 26 non erano infetti, insomma è un problema. Vabbè, comunque, eppure, dice Pieri dell'Aspes, abbiamo usato kit ottimi e certificati. Solo 65 nuovi casi invece, sei morti in regione, nessuno della provincia, ancora 35 malati in terapia intensiva, in tutto 167 ricoverati per il virus. Mascherine irregolari, siamo sulla pagina di Fano del Carlino, scattano i sequestri, blitz della finanza in sé diversi negozi, sigiglia 3300 prodotti anche di bigiotteria, moda e articoli per la casa che non avevano delle certificazioni. Se la merce in vendita non è conforma alle normative significa che può essere pericolosa. Poi andiamo adesso invece sulla, no, c'è una notizia che riguarda San Costanzo la morte del dottor Carlo Maria Scarponi, storico farmacista di San Costanzo, che gestì l'omonima farmacia di famiglia fondata nel 1906, dal 71 al 2006, quando ne passò l'eredina la figlia Sara. Si è spento a 87 anni per cause però estranee al Covid. Il funerale si svolgerà questa mattina alle 11 nella chiesa di Sant'Agostino. E adesso invece la pagina di Fano del Carlino. Con le fiamme la profil glassa, paura Bellocchi, l'incendio si è originato all'interno di un capannone per gli scarti, nessun ferito. L'ARPAM dice non sono stati registrati i valori tossici nell'aria, quindi dunque una densa nube nera che ha ricoperto il cielo di Bellocchi. Ieri pomeriggio, poco dopo le 14, quando un incendio è divampato all'interno di uno dei capannoni, lato Monte Filippini, adibito allo smaltimento dei materiali di scarto della ditta che lavora l'alluminio. Una scintilla che probabilmente incontra l'olio di una pressa incendiandolo, poi il fuoco avviluppa due trattori che si trovavano nel cosiddetto reparto Rottami e infine una gigantesca colonna di fumo nero che si è levata in cielo facendo preoccupare i residenti della zona. Poi come abbiamo visto insomma la centralina di rilevamento della qualità dell'aria che è collocata a poco distante non ha rilevato criticità nella fascia oraria tra le 14 e le 18. E quindi insomma possiamo dire che nel giro di pochissimo tutto si è risolto nel migliore dei modi. Incendio alla Profilglas titolo del Corriere Adriatico, paura bellocchi, densa colonna di fumo nero sopra le case. Poco prima delle 15 divampano le fiamme in un capannone sul lato di via Filippini domate in un'ora dai pompieri. Queste sono le immagini dei vigili del fuoco che poi sono intervenuti nella sede della Profilglas sopra invece il fumo nero che ha suscitato anche un po' di apprensione. Preoccupati per sicurezza e inquinamento il comitato del residente attende l'esito delle analisi ma l'ARPAM insomma ha già detto che non è stato segnalato nulla da quella centralina. Pronti a collaborare per la guinza invece sulla pagina di Urbino la galleria deve essere realizzata. Il presidente della regione toscana Eugenio Gianni dice ciò vale anche dal punto di vista finanziario. Sull'altra pagina invece questa volta del Corriere di Senigallia esce dall'ospedale multata. L'infermiera dice zero tutele. Sanitari contro il ticket da 20 euro al mese per la sosta. Il sindaco però dice i vigili fanno il loro lavoro. Tira un pugno al vicino e tenta di ferirlo con un cacciavite. L'ite per il volume della televisione probabilmente troppo alta. Denunciato dai carabinieri un 35enne per lesioni. Lo sport per chiudere la nostra rassegna. La Lube a Perugia si alza il sipario sul duello finale. Alle 17.30 gara 1 della sfida che assegna lo Scudetto. I due allenatori pronti a guidare le loro corazzate. Dunque è arrivato il momento di iniziare a giocare e si arriva dunque al duello finale. Siamo alla fine anche noi della rassegna stampa. Vi ricordo alle 15.35 oggi pomeriggio per chi vuole fare ginnastica con Fano TV anche oggi l'appuntamento è stato un po' anticipato perché alle 16 per la serie Esplorare i confini prodotta dal Circolo Bianchini abbiamo anzi riproponiamo una puntata sulla storia del Carnevale di Fano dedicata al libro del Professor Enrico Tosi che narra la storia del Carnevale cittadino dal Medioevo fino ai nostri giorni. È un'opera frutto di 15 anni di intenso lavoro, ricerche di archivio e documentaristiche. Il libro è di prossima pubblicazione e quindi non appena riprenderemo a incontrarci in presenza sarà possibile ascoltare i relatori e il relatore in particolare il Professor Tosi magari con una presentazione ufficiale all'ente carnevalesca. Poi le 21 invece questa sera dopo il telegiornale delle 20 e 30 avremo uno speciale su una nota azienda locale produttrice di componenti in ferro per l'arredo. È tutto, grazie per averci seguito, buona giornata a tutti. Grazie a tutti.